Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come bloccare una chiavetta USB con una password grazie alla procedura BitLocker sulla chiavetta USB e grazie anche al nostro sistema operativo Windows 10 e Windows 11 quindi in questo caso inserisci così la tua chiavetta USB nel PC inseriamo così la chiavetta eccola qua la nostra chiavetta clicca sulla chiavetta tasto destro sopra attiva BitLocker aspettiamo che faccia l'avvio di BitLocker e poi possiamo inserire una password e bloccare la nostra chiavetta USB usa password per sbloccare l'unità usa smartcard per sbloccare l'unità ovviamente noi useremo una password ora mettiamo una password vogliamo noi metto questa fatto e faccio avanti come eseguire il backup della chiavetta di user salva l'account Microsoft salva in un file stampa la chiave di ripristino salva l'account Microsoft facciamo avanti applica criptografia solo allo spazio utilizzato del disco l'operazione è più rapida ed efficace su unità e pc nuovi applica criptografia all'intera unità soluzione più lenta ma consigliate per il pc usiamo questa modalità compatibile consigliate per le unità che possono essere spostate da questo dispositivo procedere con la criptografia dell'unità avvia criptografia ok criptografia della chiavetta completata facciamo chiudi ora in questo caso se io adesso tolgo la chiavetta usb e rimetto la chiavetta usb questa unità è protetta tramite bitlocker immettere la password per sbloccare questa unità quindi adesso metto la mia password e faccio sblocca ok ed eccola qua abbiamo sbloccato così la chiavetta bloccata e sbloccata grazie alla procedura bitlocker quindi abbiamo aggiunto una password su una chiavetta usb in poco tempo quindi in questo caso se viene smarrita una chiavetta usb e vogliono accedere alla vostra chiavetta non possono accedere perché serve una password quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti e lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao